Radio Radicale, il senatore Buccarella che ha partecipato, ex del Movimento 5 Stelle, che ha partecipato al tavolo dei gruppi parlamentari che si è svolto stamattina nella Sala della Lupa e che sarà riaggiornata alle 14.15 di oggi, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'andamento dei lavori del tavolo che è stato chiesto dai gruppi parlamentari nel primo giro di consultazioni del Presidente della Camera Fico. Ecco che cosa ci ha riferito sull'andamento dei lavori e in che clima si è lavorato nella mattinata e poi quale sarà l'approdo di tutto questo lavoro.